ciao ragazzi oggi vi parlo di un bellissimo film del maestro yuei kitamura nel 2018 downrange un thriller horror splatter che mi ha colpito tantissimo in quanto tutto il film si svolge in un arco di 300 metri quadri la scena è racchiusissima praticamente si svolge quasi completamente dietro una macchina cosa succede un gruppo di sei ragazzi si sta recando ad un evento sportivo improvvisamente una gommia del pick up si buca riescono miracolosamente a fermarsi sul ciglio della strada si rendono conto però quando vanno a cambiarla che la stessa non è scoppiata casualmente ma è stata forata da un proiettile non appena uno dei ragazzi viene colpito alla testa che esplode in una scena splatterosissima tipica del nostro maestro si rendono conto che dall'altro lato della strada appollaiato su un albero c'è un killer con tanto di fucile e tuta mimetica che ad una alla volta cerca di farli fuori tutti perché non si sa non si scopre per tutta la ruota del film se è un uomo se è una donna e le sue reali motivazioni così come d'altronde non c'è approfondimento psicologico dei sei personaggi non si sa chi è il buono che il cattivo di solito in un film del genere c'è quella antipatico che sia a piacere quando muore c'è quella buona che alla fine si salva e che quindi è un sospiro di sollievo qui c'è solamente il gusto della vendetta del gioco della volontà di uccidere persone senza una reale motivazione dopo circa mezz'ora di film i nostri ragazzi riescono a spostare finalmente questa macchina quando uno coraggiosissimo riesce ad infilarsi dentro inserendo il contatto e togliendo il freno a mano beccandosi i proiettili dappertutto sostanzialmente il movimento della macchina non fa altro che creare nuovo pathos nuovi morti un nuovo splatter con una testa che si viene schiacciata sotto le ruote una cosa incredibile e dopo circa altra mezz'ora di film arriva un'altra macchina con a bordo una famigliola di madre padre e figlia piccola che fanno una fine orrenda non viene risparmiato nessuno uomini donne bambini tutti quanti vengono massacrati da questo killer che poi alla fine però spoiler insomma verrà ucciso da uno dei ragazzi ma anche dopo non si sa perché ha fatto questo quali sono state le sue reali motivazioni tutto si gioca sul filo del thriller della suspense che viene creata minuto dopo minuto nonostante vi ripeto si stia dietro una macchina ferma con i ragazzi con un telefonino riescono a fare un video del dell'albero soltanto per vedere dove si trova questa persona ma in realtà non è che si scopre poi più di tanto kitamura è un maestro io vi consiglio di vedere gozilla quello 2004 che è bellissimo il recentissimo dormen ma anche a zumi mi è piaciuto proprio tanto e poi soprattutto prossima fermata all'inferno che è un incubo ad occhi aperti su cui mi soffermano in una prossima recensione perché è veramente fantastica proprio il manifesto del del maestro che a molti non piace ma mi piace tantissimo perché le scene splatter le parti horror non sono forzate come in altri film ma fanno parte c'è così della sceneggiatura sono parte integrante della trama questo per me è fantastico perché bastava per esempio raccontare la storia di un killer che semplicemente colpisce dei ragazzi invece qui c'è proprio il gusto nel raccontare le uccisioni anche un gusto del macabro che naturalmente fa di questo film una perla non adatta a chi ama specificatamente il thriller ma chi apprezza molto l'horror con tutte le sue sfaccettature anche quelle più estreme per questo ve lo consiglio perché non vedrete niente di simile secondo me è veramente al di là diciamo così l'ambito dei mockumentary in cui spesso abbiamo dei film horror girati in spazi ristrettissimi con uno due tre personaggi in quell'ambito forse sì ma in un blockbuster una trama del genere un'attenzione del genere è veramente difficilmente riscontrabile io vi aspetto alle prossime recensioni vi invito a iscrivervi al canale e vi ringrazio siete davvero in tantissimi alla prossima